Ciao ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video sul mio canale YouTube e sulla mia pagina Facebook. È il primo dell'anno quindi apriamo questo nuovo anno con un video che onestamente volevo fare da tanto tempo però visto che mi è arrivata un'ulteriore richiesta recentemente mi sono ricordato che alla fine questo video qua non l'avevo mai fatto. Quindi un ragazzo mi ha chiesto sotto uno dei miei video o in uno dei commenti quindi se vi interessa avere magari qualche risposta particolare lasciate un commento sotto i miei video così io posso prendere ispirazione da lì quando decido di andare a fare un video oppure no. Vi dicevo in uno di questi miei video mi è stato commentato e mi è stato chiesto di parlare del discorso di fare massa nel calisthenic. Allora dal mio punto di vista è una cosa molto interessante perché? Perché nei miei tre anni di lavoro sulla ricomposizione corporea con Angelo ho avuto modo di lavorare su una fase di leggero off-season ho avuto modo di fare tre picking e i picking ovviamente sono sempre seguiti da una risalita del peso per cercare di essere più pieni in gara quindi so cosa vuol dire aumentare il peso sia per essere più performanti a livello estetico che però ci può stare anche per un discorso di competizione sia per fare una leggera off-season e avere l'idea di andare a costruire massa muscolare. Quindi secondo me è una cosa molto interessante perché si possono sviluppare molti concetti. Allora non ho idea di quanto andrà a durare questo video però sicuramente con questa piccola presentazione qua alcune idee diventeranno molto più chiare e vi daranno un qualcosa in più su cui riflettere. Allora partiamo da una considerazione generale ossia il fatto che se noi prendiamo un individuo che non ha mai fatto niente e che è sottopeso se noi lo mettiamo ad allenarsi con l'allenamento a carico naturale ed è una persona che non ha mai fatto niente facendogli fare un lavoro sulla base e che vuol dire ripetizioni leggermente più alte quindi magari tra le 8 e le 15 se lui tende a mangiare un po' di più va leggermente in surplus tendenzialmente tende a mettere su massa magra molto più facilmente rispetto alla massa grassa. Quindi sicuramente una persona che è sottopeso va a beneficiare di un tipo di lavoro che è orientato allo sviluppo delle basi e queste basi si lavorano tendenzialmente in intensità medio-basse. Questo lavoro in intensità medio-basse se viene protratto un po' di più verso il cedimento magari con gli accessori può dare un beneficio sulla costruzione della massa magra. Allora facciamo una piccola prefazione. Ci sono due fattori principali che influenzano la forza sono i fattori neurali e i fattori strutturali. Per chi non sapesse di cosa sto parlando se voi andate a cercare comunque su Google lo trovate e per esempio nel test di Carlo Buzzichelli questo tipo di concetto è veramente spiegato un po' più in ampio. Di fatto tutti gli fattori che sono strutturali e di fatto la PCSA del muscolo, quindi la sezione crociata fisiologica del muscolo. Di fatto tutto quello che riguarda il numero di fermi muscolari, la sezione vi dicendo, può determinare un determinato potenziale di forza. Poi ci sono dei fattori che sono prettamente neurali come la frequenza di scarica, coordinazione tra le diverse parti della corteccia motoria su cui riguarda l'attivazione di diversi muscoli in zone diverse per l'imparare gli schemi motori che sono più o meno complessi. Vediamo se mi viene in mente qualcos'altro. Il livello di inibizione delle strutture antagoniste in riferimento ai muscoli agonisti che invece si devono contrarre il più possibile da sole, riducendo le più possibili inibizioni e vi dicendo. Quindi c'è sempre stata questa diatriba un po' se contassero più gli uni più gli altri. Poi di fatto quello che sappiamo è che nel lungo periodo la differenza lo fa il miglioramento della tecnica. Il miglioramento della tecnica si può associare principalmente a fattori neurali. Quindi nel lungo periodo quello che fa la differenza sono sempre i fattori neurali. Questo non vuol dire che i fattori strutturali non siano importanti ma che probabilmente potrebbero essere messi leggermente più in secondo piano rispetto ai primi ma che non possano essere una soluzione per dare un boost un po' di più ai neurali. Questo secondo me c'è nulla di male nell'andare ad ammettere che sì può essere. Quindi con atleti particolarmente forti quando arrivano a un plateau andare a lavorare su fare magari una fase di ipertrofia può essere un buon modo per riuscire a guadagnare qualcosina ovviamente va tutto contestualizzato allo sport che fa l'atleta perché se è importante la forza relativa potrebbero esserci dei problemi. Quindi la prima cosa che c'è sempre andare ad analizzare è chi è che deve andare a beneficiare di un aumento della massa muscolare. Sicuramente l'atleta che non ha problemi di categoria di peso può farlo tranquillamente. L'atleta che invece ha un problema di rapporto peso potenza deve sicuramente andare a ridurre più possibile l'aumento della massa corporea e cercare di ottimizzare quello che fa. Quindi di fatto la costruzione di massa muscolare può essere molto utile per andare ad aumentare ulteriormente quelli che sono i potenziali di sviluppo poi della forza quando si può fare un elemento mirato però va sempre tenuto in considerazione quello che è l'obiettivo della pratica che si sta facendo. Quindi nel lungo periodo però quelli che sono gli adattamenti neurali sono più importanti per sviluppare la forza. I calisthenics e le fasi di massa quindi cerchiamo di entrare un po' di più nello specifico di questo video. Nel calisthenics abbiamo le skill e di fatto lo straight lifting dove le skill è tutto ciò che riguarda movimenti come la planche, front level, front level pull up, planche push up, press, la rondine e via dicendo. E sono tutti movimenti che hanno una traiettoria di tipo verticale, una traiettoria di tipo una leva di tipo orizzontale oppure quelli che hanno una leva ibrida. Un movimento che ha una leva ibrida qual è per esempio il 90 degrees dove si parte dalla verticale, si va giù inventare planche e poi si torna su. Un movimento verticale per esempio l'op o l'epesto che è molto simile o il piegamento in verticale, una leva orizzontale, la planche, i planche push up, le press per esempio, scusate le press sono più una cosa ibrida vedetela così però la planche push up, la rondine, i lavori agli anelli come planche, la rondine planche, invece per esempio la croce o la croce verticale sono movimenti più assimilabili a traiettorie che sono di fatto verticali e via dicendo. Quindi anche qua vedete che quando io vado a parlare della massa corporea ci sono dei movimenti che possono essere più o meno influenzati dalla massa corporea e dalla distribuzione della massa corporea. Quindi se io mi oriento verso movimenti dove non c'è una leva orizzontale, mi vengono in mente le trazioni monobraccio oppure la croce sicuramente un aumento della massa corporea negli arti inferiori è relativamente un problema soprattutto se io voglio fare un qualcosa dove la massa viene distribuita in modo uniforme. Se invece andassi a fare un lavoro come la planche e vado a produrre un aumento della massa corporea può essere che il grasso venga accumulato durante la fase di crescita anche sugli arti inferiori e se si va a accumulare del grasso negli arti inferiori potrebbe diventare un problema ma ne parliamo tra qualche minuto. Poi invece c'è lo street lifting dove lo street lifting si vada a tenere le trazioni, i muscle up, le dip e anche le gambe. Quindi sicuramente sotto questo punto di vista è un approccio un po' più facile dove ci interessa di meno dove si va a distribuire il peso corporeo. Logicamente l'idea è che sia più possibile la distribuzione del peso corporeo che sia funzionale nel senso che costruire una valanga di gambe quando il nostro problema sono i pull up può essere una cosa un pochino controproducente perché comunque è peso che dobbiamo sollevare. Nel contesto delle ski sicuramente visto che il rapporto peso potenza fa la sua parte dal mio punto di vista andare a fare delle fasi di massa è una cosa che va presa un po' più con le pinze. Nello street lifting potrebbe essere una cosa che ha un po' più di senso a patto che però ci sia in programma di rientrare all'interno di una certa categoria di peso. Allora lì fare una fase di massa ha senso ma bisogna vedere nel lungo periodo e capire dove si vuole rientrare. Chi è che quindi potrebbe potenzialmente farlo senza problemi? Chi magari nello street lifting appartiene a una categoria di peso più alta e di conseguenza aumentare la massa corporea di fatto è relativamente un problema. Ci sono una serie di controindicazioni che di fatto è il perché ho deciso di andare a fare questo video per spiegare un po' di cose. Quindi quando si fa una fase di massa ci sono tutta una serie di cose che devono essere valutate. La prima è sicuramente l'aumento del peso ovvero voi a meno che non siate delle persone che sono deallenate e che sono denutrite nel momento in cui decidete di andare a costruire nuova massa muscolare dovete scendere a pati col fatto che il peso corporeo deve aumentare per forza e deve aumentare anche il grasso corporeo ovvero quando voi raggiungete il punto in cui potete iniziare a costruire massa muscolare partendo da una condizione in cui siete un pochino più tirati lì inevitabilmente avete messo su anche un pochino di grasso corporeo. C'è un video recente che ha fatto lei Norton di cui ha parlato anche Mitch Ferniani dove di fatto anche lei Norton fa vedere come ci siano a parità di individui una distribuzione delle casistiche dove tendenzialmente a parità di deficit calorico c'è chi riesce a mettere su qualcosina però più di deficit calorico è importante meno si riesce a costruire. Quindi il surplus calorico e un moderato aumento di peso è fondamentale per riuscire ad arrivare al punto in cui si riesce a costruire qualcosa e bisogna accettare che si mette sia su sia tessuto magro sia tessuto adiposo. Un'altra contraindicazione è capire dove cavolo vado a mettere su il grasso e il magro perché se l'aumento del peso è comunque generalizzato e diciamo abbastanza distribuito bisogna considerare che le persone hanno delle distribuzioni che non sono tutte uguali c'è chi accumula un po' di più sulla pancia c'è chi accumula un po' di più sui fianchi c'è chi ingrassa prevalentemente sulle gambe c'è chi ingrassano anche le braccia quindi magari la pelle diventa più spessa. ognuno ha la sua distribuzione dei tessuti a fronte di un aumento di peso e di conseguente bisogna riuscire quando lo proviamo a capire se l'aumento di peso diventa più o meno sfavorevole quindi nel caso per esempio del calistenico e delle levo orizzontali si tratta di capire quanto è questo aumento di peso che mi va ad influire anche sull'esecuzione dei movimenti perché se io vado ad accumulare troppo peso in basso potrebbe essere che mi si sparsi un attimino il baricentro e per esempio una pressa in verticale diventi più difficile. Un'altra controindicazione è il fatto che bisogna passare del tempo lontano dalle skill e perdere la confidenza con i gesti questo perché perché se io decido di andare a produrre un aumento anche dell'ipertrofia in alcuni settori che mi interessano è logico che bisogna dare la priorità sulla fase di muscolazione e meno sulla parte di forza. Molti pensano di poter fare tutto insieme di diventare superforti di riuscire a costruire anche massa muscolare in realtà il corpo ha un numero limitato di energie quando io a suo tempo mi ricordo il primo anno che ho fatto la ricomposizione con Angelo ho provato a fare entrambe le cose sono andato in overreaching mi ricordo che avevo fatto un 15 giorni e facevo fatica a dormire un paio di ore a notte lì volevo fare tutto volevo fare forza volevo fare questo volevo stavo facendo lavoro di ricomposizione a un certo punto Angelo mi fa ascolta fai quello che ti dico io e basta quindi il discorso è che a fronte di un numero limitato di energie che non possiamo spendere e distribuire su quelli che sono i nostri sforzi bisogna capire che se io voglio ottimizzare una cosa devo fare prevalentemente quella quindi io posso decidere di mantenere quel che posso mantenere e poi dedicare la maggior parte del mio lavoro a quello che è l'obiettivo della costruzione della massa magra che si sposta su un range di ripetizioni diverso rispetto a quello che si utilizza per la parte di forza dei calisthenics che è praticamente un lavoro neurale e che avviene a ripetizioni in un range più basso indicativamente tra 1 e 5 ripetizioni poi ovviamente in base a quello che si decide fare perché si può beneficiare tranquillamente anche delle 5 ripetizioni o delle intensità legate alle 5 ripetizioni anche se vogliamo mantenere un rapporto peso potenza favorevole e un'altra cosa importante è che se noi ci andiamo ad avvicinare a quello che è il range di ripetizioni che ci permette di andare a costruire la massa magra sicuramente tendiamo ad avere uno shift un adattamento momentaneo delle fibre a contrazione rapida che tendono ad avere una sfumatura leggermente più orientata al lavoro metabolico quindi di fatto diventano più brave a gestire un certo range di ripetizioni rispetto a gestire un range di ripetizioni più basso questo è il motivo del perché chi fa tante ripetizioni magari meno bravo a spostare carichi ad alti intensità e poche ripetizioni e invece chi è abituato a spostare carichi alti e basse ripetizioni non è abbastanza efficiente e efficace a spostare bassi carichi o medi carichi per alte ripetizioni quindi questi sono alcune delle controindicazioni adesso a livello puramente logistico vediamo che cosa succede quando noi decidiamo di fare una fase di costruzione e andiamo effettivamente ad aumentare il peso corporeo perché poi è quello che succede perché l'ho sperimentato in prima persona quindi vi sto dicendo una cosa che succede è così punto e basta quindi il problema principale è che voi decidete di andare a costruire massa magra andate su plus calorico il peso corporeo inizia ad aumentare sicuramente se voi avevate dei riferimenti su cui andavate ad impostare il vostro allenamento questi riferimenti vengono ogni volta ad essere sfalsati quindi significa che più il peso sale man mano che il peso sale voi magari prendete aveva fatto un surplus la prima settimana non prendete neanche un chilo la seconda per i due reti dopo tre settimane surplus prendete un chilo quindi cosa significa che i vostri massimali e i vostri riferimenti cambiano quindi magari prima quando non avevo preso niente facevo sei secondi di rondine come numero massimo di secondi con 200 grammi facevo ancora sei secondi dopodiché il chilo si fa sentire i miei secondi magari sono passati a tre io non lo so mi alleno ancora quel programma come se i miei massimali fossero sei probabilmente vado in overreaching quindi sto tirando un pochino troppo perché vado sempre praticamente a cedimento quindi il primo grosso problema qual è che finché io non raggiungo quel peso corporeo che vado a mantenere e tendo a girare sempre intorno a quel peso lì perché il mio peso giusto per andare a costruire massa magra tendenzialmente i miei massimali continuano ad essere sfalsati e questo è un grosso problema perché io non riesco a sapere quando è che il mio set point sarà quello giusto diciamo che dovrebbe sapere l'allenatore che mi sta seguendo quindi dal mio punto di vista non sapere quanto la scheda che mi ero fatto con un certo tipo di massimali un certo peso corporeo sarà tassante limitante man mano che metto che aumenta il peso corporeo questo potrebbe essere un bel problema da un punto di vita psicologico perché si si vede praticamente diventare sempre più deboli rispetto a quello che facevamo prima e anche da un punto di vista pratico perché cambiano completamente quelli che erano i programmi che ci eravamo fatti ci sono delle strategie che permettono di evitare di andare fuori di testa dove di fatto non indipendentemente la peso corporeo quindi ci ne sbattiamo andiamo magari a ricercare un massimale tecnico in un certo giorno e ci alleniamo sulla soglia di intensità che ci interessa quindi che io prenda 5 kg o che io ne prenda 3 o che io ne prenda 10 poi il 70 per cento o il 60 per cento che può essere un serre o un 80 per cento che potrebbe essere un crm che io vado a calcolare con 3 kg in più con 5 kg in più il crm è sempre quello quindi definita un'intensità io posso cercare di andare ad allenarmi lì però si tratta di andare a ricercare l'intensità ogni volta che ci alleniamo soprattutto considerando che quando voi mangiate ci possono essere delle fluttuazioni di peso più accentuate ancora durante la settimana che fanno sì che le cose non poi non siano così semplici da gestire un altro problema qual è il fatto che nel momento in cui noi aumentiamo il peso dobbiamo accettare che ci sia un aumento della massa magra e ci sia anche un aumento della massa grassa e la massa magra nuova che è stata costruita viene ovviamente oscurata da quella che è la massa grassa e queste due tendono un pochino ad aumentare in parallelo questo potrebbe influire sul fatto che se le levo orizzontali se io vado ad accumulare grasso sotto mi si spaccia leggermente quello che è il baricentro quindi potenzialmente in alcuni movimenti come per esempio le presse dalla planche io potrei trovarle più difficili rispetto a prima a parità della stessa identica intensità della stessa assistenza che mi potete avere la stessa performance di prima e quindi anche in questo caso come vedete andare ad aumentare il peso corporeo può portare a tutta una serie di svantaggi che devono sempre essere tenuti in considerazione quindi fatta questa premessa dovete tenere bene a mente quelli che potenzialmente sono i vostri obiettivi tenere a mente tutte quelle che sono le vostre problematiche e poi tirare le somme e capire se effettivamente ne vale la pena cioè il discorso costi benefici qual è che conviene fare di più un'altra cosa molto importante che dal mio punto di vista può essere un fattore a livello psicologico non banale è il fatto che le fasi di costruzione durano un bel po' cioè io per esempio adesso che ho in programma di farla con con Angela abbiamo già iniziato si tratta di fare qualcosa che dura dai 16 ai 18 mesi quindi mi capite che stare 17 18 mesi dove per una buona parte io tenderò ad accumulare peso e tenderò a perdere le skill quindi non avrò più la forza di prima questa cosa a livello psicologico è massacrante soprattutto per uno che fa le skill perché anche in un movimento come un hop provate a pensare prendete due chili e ne avete uno l'hop lo perdete quello sicuramente quindi si tratta in un certo qual modo di andare a temporeggiare fino a quando il peso non si stabilizza e poi da lì potete riprendere a gestire in modo un pochino più mirato il discorso delle skill quindi vi direi che dal punto di vista di conviene fare una fase di massa oppure no se avete delle carenze se pensate di essere arrivati vicino al vostro limite se le avete provate tutte vedete che non andate da nessuna parte è una cosa che potete considerare sappiate che le problematiche e gli svantaggi sono quelli che sono appena stati menzionati che non sono banali e di conseguenza fanno anche parte del gioco però ovviamente non è una cosa che dura in eterno non è che uno all'infinito continua ad aumentare di peso vi dicendo arriverà un punto in cui si stabilizza deve rimanere lì però è ovvio che nel lungo periodo costruisce tessuto magro questo potrebbe andare a variare la distribuzione del peso corporea potrebbe andare a variare anche il baricentro questa cosa purtroppo non ce la toglie nessuno nel mondo dello street lifting considerate sempre che in alcuni movimenti se voi costruite peso sulla parte inferiore del corpo è peso che vi dovete trascinare dietro quando andate a fare lavoro per la parte superiore del corpo quindi se non distribuite bene i volumi crescete più di sotto rispetto a quanto crescete sopra potenzialmente a parità e i massimali sono più scarsi rispetto a quando avevate una distribuzione dei tessuti che era diversa in proporzione tra la parte alta e la parte bassa quindi tutto qua vi ho spiegato un pochino come la vedo io dal punto di vista della costruzione della massa magra nei contesti del calisthenic sia che facciate skill sia che facciate street lifting adesso un pochino tirate le vostre somme e poi decidete cosa fare va bene se vi è piaciuto il link se vi è piaciuto il video condividete lasciatemi un like scrivetemi che cosa potrei trattare in questi video io magari cercherò di accontentarvi va bene ciao ragazzi ci vediamo nel prossimo video